Torna nel degrado l'area delle giostrine a via Calastro, sopra il luogo delle telecamere di TV City questa mattina per documentare la situazione. Ciò che balza gli occhi è in primo luogo l'erba alta, a ridosso dell'aria, abitualmente frequentata da mamme con bambini piccoli e ragazzi. Un problema che si ripete periodicamente nella zona. SOS pulizia ma anche manutenzione e sicurezza. Una pedana per i bambini è ormai inagibile, uno scivolo è rotto e l'altalena non è in sicurezza. Anche le griglie di plastica sono distrutte in più punti. Quanto basta per non poter fruire serenamente della zona. Senza contare i giorni in cui ci sono cumuli di spazzatura e ingombranti anche sulla dissestata passeggiata Portoscala. L'area è dunque presa di mira da vandali e incivili, che in mancanza di controlli e di un presidio costante possono agire indisturbati.